Non solo periferie, le discariche abusive hanno ormai invaso gran parte della città che da nord a sud registra ormai un tasso di degrado fuori controllo. Rifiuti di ogni tipo scaricati illecitamente sul bordo delle strade fanno bella mostra di sé per settimane, senza che vengano rimossi e così, complici le alte temperature di questi giorni, proliferano ratti e parassiti e l'odore è diventato insopportabile. Sarebbe solo qualche criticità a sentire quanto dichiarato dal sindaco Lucio Greco proprio sabato scorso. In realtà le immagini girate proprio stamattina raccontano di una situazione a rischio soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario che coinvolge tutti i quartieri e da cui non esce immune neanche il centro storico quello che dovrebbe essere il salotto buono della città che invece conta di scariche più o meno grandi un po' dappertutto. Basta lasciare il corso principale per inoltrarsi nei vicoli storici della città per rendersi conto della situazione di degrado in cui versano le vie del centro a farne le spese principalmente ai cortili più antichi e storici della città. Qui ci troviamo in via Bella, uno dei vicoli più caratteristici del centro storico e proprio qui alle mie spalle vedete un cortile trasformato in discarica a cielo aperto. Qui i rifiuti erano arrivati a circa un metro d'altezza il cortile come vedete è completamente colmo di rifiuti e qualche giorno fa sono pure stati dati alle fiamme vedete le transenne apposte dai vigili del fuoco ma qui la situazione è veramente complicata l'odore è fortissimo e la gente come vedete continua a buttare i rifiuti. Il puzzo dei rifiuti bruciati è molto acre e si sente fin dentro la gola ma neanche gli incendi hanno fatto desistere gli sporcaccioni che continuano tranquillamente a depositare i propri rifiuti dalla comune immondizia ai pannoloni usati sui resti del rogo. Una situazione comune anche alle vie limitrofe che non risparmia neanche luoghi insospettabili come Palazzo di Città dove appoggiato a una delle porte di accesso del municipio fa bella mostra di sé da settimane un materasso probabilmente usato da qualche clochard come rifugio per la notte. Ma in piazza municipio non ci sono solo i rifiuti proprio alle spalle del palazzo nella nuovissima Viale Mediterraneo sono arrivati anche i vandali nel tratto che si affaccia sul Belvedere una delle panchine si presenta con evidenti segni di vernice nera subito imbrattata con una realizzazione che di artistico non ha proprio nulla le immagini sono state diffuse sui social per segnalare quanto accaduto proprio sotto le finestre dell'ufficio del primo cittadino ma il tour del degrado prosegue anche in altri quartieri spostandosi più a ovest all'altezza di via Rio de Janeiro fino a arrivare a lungomare cumuli di rifiuti si trovano lungo tutta la sede stradale percorsa giornalmente da tanti runner costretti a fare lo slalom tra la spazzatura stessa situazione che si trova risalendo verso Caposoprano dalla via Licata questa alla mia spalla invece è la via Licata ci troviamo nel quartiere Caposoprano la strada che va verso Macchitella e come vedete questa zona è diventata la meta preferita ai lanciatori al sacchetto al di là dei sacchi di mondizia che vediamo qui sul ciglio della strada oltre il guardrail nel costone che va verso nord sono ovunque disseminati i sacchetti di mondizia per centinaia di metri i sacchetti lanciati al volo dalle auto invadono a decine la carreggiata in alcuni punti i rifiuti sono stratificati segnale che nessuno è mai intervenuto per provare a bonificare la zona una situazione più volte denunciata dal signor Giuseppe che in quella zona ha un'attività purtroppo senza alcun esito passano le persone con le macchine e lanciano sacchette di spazzatura purtroppo anche ci sono alcune persone qua che buttano spazzatura anche ed è tutto sporco e la realtà è fatta ogni tanto passano e puliscono ma cosa possono fare giustamente se i cittadini sono sporchi che buttano spazzatura a tutte le parti che cosa ci possono fare queste signore? questo è il problema tra l'altro l'ultima volta lei mi diceva che sono venuti a pulire sono arrivati fino a un certo punto e poi non hanno pulito più la curva non l'hanno pulito tutto tutta la spazzatura è rimascia in curva stesso pulisco sempre ma mezzo la spazzatura sempre non si può vivere più